Buongiorno, mi chiamo il piccolato Giovanni, vengo da Parletta e sono il primo vincitore del gioco in club della scommessa. Grazie a questo gioco ho ricevuto in regalo questo gadget multiuso, è un portachiavi già utilizzato, è un portagettone per il carrello della spesa e in più è una simpatica lampadina tasca. Questo è un bellissimo gioco in quanto l'obiettivo è gratuito e poi è bello perché si si confronta con tante persone di tutta Italia che si devono cimentare e indovinare i risultati delle partite in Serie A. Io ho partecipato per ben cinque volte e alla quinta volta sono stato fortunato ad indovinare la terza. Vi ricordo che le partite della scorsa giornata erano Roma-Brescia che è finita 3 a 0, dunque 1, San Bluore-Udinese che è finita 2 a 1, dunque 1 e infine Lecce-Cagliari che è finita 2 a 2, dunque X. Quindi ora credo sicuramente di continuare a giocare perché voglio sfidare chiunque a battere e poi ad indovinare i risultati dei prossimi concorsi. E quindi meravigliarci e al prossimo video. Spero di essere di nuovo presente per confermare una nuova velocità. Grazie a tutti. Ciao! 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 Ciao!